Buongiorno, benvenuti alla Resena Stampa, siamo in diretta, sono le 7.30 in questo istante, un saluto anche agli amici che ci seguono durante le repliche del corso della mattinata. Bene, partiamo dalle previsioni del tempo e poi il santo del giorno, oggi è venerdì 12 febbraio, San Benedetto Daniani, il sole è sorto alle 7.11 e tramonterà alle 17.33, vedete pian piano le giornate si stanno allungando. Vediamo il tempo, naturalmente partiamo dalla nostra postazione meteo sulla temperatura che fa in questo momento al suolo e sono 7 gradi e poco più. Vedete, in questo momento il cielo si presenta così, insomma, un azzurro carico, però nuvole all'orizzonte. Allora vediamo che cosa ci dicono gli amici della protezione civile per le previsioni nelle prossime 48 ore. Oggi è nuvoloso o coperto con qualche locale o temporanea schiarita durante le ore centrali della giornata. Precipitazioni sparse e di debole in intensità, però fenomeni in intensificazione. Anche il limite delle nevicate è intorno ai 1100 e 1200 metri. Diminuzione dei valori minimi, quindi si va verso temperature un attimino un po' più fredde. La giornata di domani, di sabato, anche questa all'insegna della variabilità. Vedete il crinale appenninico contrassegnato dalla simbologia della pioggia, mentre variabilità sulla costa, parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Precipitazioni possibili, deboli e sparse nelle zone interne. naturalmente venti forti, inizialmente nord-occidentali, ma tendenti a ruotare da sud-ovest nel corso della mattinata. E quindi di conseguenza mare molto mosso o agitato. Vediamo la previsione per domenica, cosa ci dice il modello della protezione civile. Anche qui variabilità nuvoloso a tratti molto anche nuvoloso. Precipitazioni possibili, sparse localmente anche a carattere di rovescio, più probabili però durante le ore centrali della giornata. Le nevicate insomma salgono come limite sopra i 1800 metri e le temperature per domenica dovrebbero salire leggermente. Bene, questa era la previsione del tempo anche che riguardava parte del fine settimana che sta arrivando. Entriamo nei giornali, quest'oggi c'è soltanto il resto del Carlino, i formati digitali di messaggero e guerriera adriatico non erano disponibili in questo momento e quindi noi partiamo con il resto del Carlino. Partiamo da Fano dove si parla del caro affitti che affligge il settore del commercio. Quindi parliamo in modo particolare del centro. Affitti esagerati e negozi chiusi. Così continua a morire il centro. Allarme lanciato da Confcommercio e Confesercenti. È uno scoglio insormontabile perché dicono le persone, gli esercenti sono costretti a lavorare anche 10-12 ore al giorno per poter ricavare un reddito perché gran parte del ricavato giornaliero va per l'affitto e quindi parla sia l'esponente della Confcommercio e anche quello della Confesercenti. Gli affitti variano da 2.000 a 3.000 euro e quindi insomma alle volte succede che i proprietari mantengono una posizione di stallo, non affittano il negozio anche per 8-10 mesi pur di non abbassare il prezzo e quindi non hanno fretta e preferiscono aspettare mesi pur di non calare con la loro richiesta. E questa è una situazione di stallo come dice anche Tiziano Pettinelli di Confesercenti e Francesco Mezzottero di Confcommercio di Fano e questa è una situazione sicuramente che affligge il settore del commercio e che costringe alle volte anche a chiudere gli esercizi commerciali. Poi di spalle, nella pagina del resto del carlino di Fano si parla di bike sharing però nota negativa il fatto che molte biciclette che si trovano negli stalli sono privi di di fanali, sono stati portati via dai vandali naturalmente e quindi inutilizzabili nelle ore notturne. Nello stallo della stazione 6 bici su 7 mentre in quella di Porta Maggiore, nello stallo di Porta Maggiore, 5 su 8 sono prive dei segnalatori che servono nella marcia notturna e quindi sono inutilizzabili. Sempre rimaniamo nelle pagine del resto del carlino che riguarda Fano, vi porto dentro una notizia che riguarda le foibe. Ieri Altorelli al liceo scientifico è stata celebrata dagli studenti con tutta la loro voglia di mettere in campo la loro creatività inscenando appunto anche una rappresentazione con musiche, con una performance di tipo teatrale. Dei ragazzi si sono avvicinati a una bicicletta con dei libri, insomma vedete qui nella foto che cosa è avvenuto davanti all'entrata del liceo. E poi censurate pagine scomode, dice Isadora Santoro, insegnante di storia, perché ritenute troppo di parte. Il giorno del ricordo, la manifestazione al liceo scientifico, però arrivano critiche dai docenti del collegio, c'è una censura che mal digerisco. Si parla dell'enciclica di Papa al centro pastorale diocesano, è Luciano Benini che da lezioni di pace, l'enciclica laudato si, se ne parla oggi alle ore 16 al via una serie di incontri al centro pastorale diocesano. Andiamo con l'ultima pagina che riguarda Fano, è la valle del Cesano, si va a Marotta dove la stazione è una stazione che non si presenta nelle migliori condizioni, lo dice Carlo Di Tallevi, consigliere comunale di minoranza, che dice altro che Marotta avvocata al turismo. La stazione è in uno stato penoso, vetri e bagni rotti, mattonelle staccate, vedete nelle foto segnalate anche con delle frecce le zone un po' così disastrate, questa è la vetrina rotta e quindi insomma una situazione che mal si concilia con una frazione, una città, una cittadina destinata e evocata al turismo e che sicuramente non presenta ai suoi visitatori uno stato ideale fin dalle prime ore di permanenza. Passiamo alla pagina di Pesaro, andiamo in via dell'Acquadotto, smantellato il campo Rom da polizia locale, Questura e anche i carabinieri, smantellata altra baraccopoli, 20 persone in 7 capanne, siamo appunto in via dell'Acquadotto, l'accampamento, senza detto, nella zona ridosso dell'area di stoccaggio di marche multiservizio, ormai era un punto fisso e appunto il villaggio Rom in via dell'Acquadotto è stato smantellato con ruspe e camion, 20 persone ci risiedevano di etnia Rom, tra uomini, donne e ragazzi, anche 5 cagnolini appena nati, 5 cuccioli e la loro mamma in azione, appunto polizia, municipale e carabinieri. Il blitz della municipale insieme alla polizia ha fatto sì che fossero ritrovati anche questa cucciolata. I carabinieri erano in azione insieme alle altre forze dell'ordine perché erano in via di accertamento per un'indagine per scoprire insomma chi era il responsabile o i responsabili di un'aggressione a un pensionato 66enne che è stato malmenato e rapinato di 400 euro e i sospetti sono caduti su dei ragazzi Rom. Ed ecco perché i carabinieri erano lì. Ancora si parla di cronaca nelle pagine del resto del Carlino, cronaca che trova la conclusione di un'indagine alla sbarra, i rapinatori compulsivi erano l'incubo di farmacisti. Vedete nella foto Claudio Mari, titolare di una farmacia in centro a Pesaro, che era stato appunto, vedete nelle foto, questa è una foto che risale proprio alle prime ore in cui era stato rapinato dopo l'inseguimento a piedi per le vie del centro a Pesaro e il rapinatore si era girato e lo aveva malmenato con il calcio di una pistola. È stato insomma arrestato insieme al suo compice, sono in due, Rolando Pomadi, 68 anni, domiciliato a Sant'Arcangio di Romagna e diventato rapinatore perché non aveva i soldi per pagare il meccanico al quale si era rivolto per farsi riparare l'automobile. Il secondo si chiama Pasquale Montanaro, è di 42 anni, originario di San Severo ma dubiciliato a Rimini e insomma dall'aprile a luglio del 2015 ha messo segno almeno 10 rapine in farmaci e supermercati. Terrorizzavano gli addetti al banco puntandogli il coltello, hanno chiesto il rito abbreviato. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella a disposizione del resto del calino sempre che riguarda Pesaro e si va al porto, anche il porto di Pesaro necessita di dragaggio, siamo nel canale antico e vedete insomma le condizioni nelle quali a rivolte si trovava e Capuzzimato, il comandante del porto di Pesaro, Angelo Capuzzimato, dice sarà un'operazione contrassegnata prima da un'ispezione preliminare per rimuovere tutti i corpi morti, le catene, le cime che sono state imprigionate dal fango e poi si procederà al dragaggio e per l'estate ci sarà un pescaggio da un metro e ottanta. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per quanto riguarda il resto del calino, unica testata disponibile questa mattina, grazie per essere stati in nostra compagnia, termina qui occhio ai giornali, naturalmente questa sera occhio alla notizia e i giornali alla rassegna stampa torneranno domani mattina alle 7.30 puntualmente. Grazie per essere stati con noi e aver preferito la nostra informazione, naturalmente vi ricordo che avete sempre a disposizione durante l'arco di della giornata, il nostro sito web e la nostra pagina Facebook per vedere i lanci che vi facciamo per tenervi aggiornati. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.